6 ottobre 2016 con inizio alle 10. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Bargero, Bindi, Buonafede, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bratti, Bueno, Busto, D'Alia, D'Ambruoso, Dell'Ai, Di Gioia, Ferranti, Ferrara, Fraccaro, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini, Guerra, Lauricella, Locatelli, Migliore, Pisicchio, Portas, Realacci, Rosato, Arsanga, Speranza, Tofalo, Valeria Valente, Villecco Callipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 130, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10 e 30. La seduta è sospesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.